Sarà in onda domani sulla nostra rete lo speciale Mattina Live condotto da Tony Colapinto, dal titolo La disperazione di Cosimo, la storia di un uomo disabile abbandonato da tutti e lasciato da solo al suo destino. Una storia difficile da raccontare, una storia di dolore, di disperazione, di mala sanità, di indifferenza e solitudine. Tony Colapinto lo ha incontrato in una straziante intervista. Così abbiamo deciso di raggiungere Cosimo a casa sua per capire meglio la sua storia. Non abbiamo più nessuno, non ho altro. Ho perso la mia dignità, non ho mangiare, non posso soddisfare le voglie che ogni tanto ho a mio figlio. Come faccio? Però sa cosa c'è che mi sento ricco dentro? Perché almeno il Signore mi ha risparmiato la vita di un figlio. Però è troppo il dolore. Ha 62 anni. Non è facile. Non è, non è fatto facile. Ormai la mia vita è stare nel letto. Stare con mia moglie, chiacchierare con mia moglie.